Ciao a tutti e benvenuti! Oggi parliamo di come creare video perfetti per YouTube. Che siate principianti o desideriate dare una spinta al vostro canale, siete nel posto giusto. Iniziamo con la pianificazione. Scegliete un argomento che appassiona voi e il vostro pubblico. Buttate giù una scaletta, non serve un trattato, ma vi aiuterà a mantenere il discorso fluido e organizzato. L'illuminazione è fondamentale. La luce naturale è sempre la migliore, ma se non è disponibile, investite in qualche pannello LED. La luce deve essere diffusa, mai diretta o troppo forte. Passiamo all'attrezzatura. Una buona videocamera fa la differenza, ma anche uno smartphone di ultima generazione può dare ottimi risultati. Importantissimo è il microfono esterno. L'audio chiaro e professionale è un must. E ora, il tocco magico. Il montaggio. Con software come Adobe Premiere Pro o Final Cut Pro, potrete tagliare le parti superflui, aggiungere effetti e trasformare un video amatoriale in un contenuto accattivante. Ultimo, ma non meno importante, l'ottimizzazione per i motori di ricerca. Usate parole chiave pertinenti in titoli, descrizioni e tag. E non dimenticate una bella miniatura. È il biglietto da visita del vostro video. Eccoci arrivati. Con questi semplici consigli siete pronti a creare video YouTube da urlo. Grazie per l'attenzione. E in bocca al lupo per il vostro canale. Iscrivetevi per non perdere altri suggerimenti e trucchi. Alla prossima! Grazie per la visione!